In questo speciale cronaca aretina faremo una passeggiata per capire come il Valdichiano Outlet Village ha cambiato le abitudini degli aretini e come è riuscito ad inserirsi nel tessuto aretino e senese. Questa passeggiata la faremo con Massimiliano Peron, Multi Outlet Management Italy, questa è la sua qualifica ufficiale e intanto partiamo da questi dieci anni, un compleanno davvero importante che poi non era neanche così scontato. Sì, dunque, no non era scontato, sono dieci anni e sono tanti e in Italia pochi outlet possono vantare dieci anni di longevità, sicuramente i nostri concorrenti di MacArthur qualcuno ce l'hanno, Serravalle su tutti. Però Valdichiana è un esempio di longevità, un esempio di una longevità che nasce nel 2005 con la prima fase costruita qui dove non c'era nulla, forse c'era un nostro collaboratore e nulla più e poi una seconda fase nel 2007. Un outlet che nel corso di questi anni ha, come diceva lei, ha cambiato un po' le abitudini dei consumatori ed è andato via via crescendo. Oggi è proprietà Blackstone da circa due anni, nel corso degli anni è stato proprietà prima del gruppo Percassi, poi del fondo Aberdeen e poi ancora del fondo Deji. Oggi è Blackstone e gestito da Multi Outlet Management. È un outlet che ha saputo convivere, ha saputo crescere, ha saputo stare in un territorio. Noi come Multi Outlet gestiamo per conto di Blackstone cinque outlet in tutta Italia, da Palmanova fino a Bari, a Molfetta a dire la verità. Devo dire che in tutti la ricorrenza della land, del territorio è importante, è sempre stato importante. Lo è per noi, lo è sempre stato, lo è per Blackstone. Val di Chiana credo di poter dire che sia stato proprio l'outlet tra i cinque che è dato là, a questo modo di vivere il territorio. Dieci anni che quest'anno abbiamo festeggiato con momenti importanti, al di là del classico concerto che un po' tutti da ogni anno aspettano ormai da sette anni, da dieci anni. Ma è stato importante perché nell'anno di Expo siamo riusciti con i comuni della Val di Chiana a Retina a creare un primo connubio che ci ha portato ad avere un corner a Milano dove si sono portate tutte le peculiarità di questo territorio bellissimo. E dopo ci ha aperto le porte verso quella Val di Chiana a Senese con i loro comuni che ci permette di dire che siamo veramente un fattore nel territorio. In breve è un po' la storia di questi dieci anni. Adesso però andiamo a sviscerare alcuni aspetti un pochino più particolari. Il primo fra tutti che mi viene in mente è la ricaduta occupazionale che questa struttura ha comportato per questo territorio. Allora questa struttura direttamente, quindi parlo di coloro che la mattina aprono i negozi e la sera li chiudono, sono circa 800. Sono 800 tra uomini e donne che sono quasi tutti parte del tessuto sociale di quello che noi tecnicamente chiamiamo il bacino primario, quindi Arezzo, Siena e i paesi qua intorno, nessuno me ne voglia se non me li ricordo tutti. Nel corso degli anni chiaramente sono cambiati, ci sono degli storici, ci sono delle persone, delle store manager che io ho visto qua sei anni fa e me li ritrovo qua e mi fa sempre molto piacere. A questi 800 si aggiungono delle altre maestranze e sono i momenti dei saldi estivi, dei saldi invernali e il classico momento del Natale che parte da metà novembre e arriva fino a gennaio. C'è anche un indotto, no? Che però voi comunque state ben attenti a pescare sempre dal territorio. Assolutamente sì, infatti grazie perché ci sarei arrivato immediatamente dopo. E' chiaro che Valdichiana, come è normale che sia, ha tutta una serie di manutenzioni piuttosto che altre situazioni che ci legano al territorio in un altro modo, ovvero il giardinaggio che è una persona locale del posto, le manutenzioni, il marketing, ogni cosa che qua si vede che sembra scontata e fortunatamente deve sembrare scontata per il cliente finale, per noi è un lavoro che è dato in appalto a ditte che per il 90% posso tranquillamente dire che sono società locali. Entriamo un pochino più nello specifico di quello che è proprio il rapporto con questo territorio. Dante chiamava gli aretini botoli ringhiosi, lei non è aretino di origini ma insomma glielo dico io, poteva starci con la polemica, il contrasto, invece non c'è stato. Perché secondo lei? Allora, parlo della mia storia lavorativa in Valdichiana, quindi parlo di sei, dei dieci anni, ma posso anche probabilmente andare indietro. Non c'è stata, o forse c'è stata e siamo stati tutti bravi, noi e il territorio, i facenti parte del territorio, a in qualche modo renderla costruttiva. Per cui non c'è stata perché, perché come dicevo prima, poc'anzi noi crediamo fortemente al territorio, le persone che via via negli anni hanno fatto parte delle varie società, che poi sono quasi sempre le stesse, hanno sempre creduto nel connubio territorio outlet, territorio commercio. Prima parlavamo dell'occupazione, sicuramente questo è un fattore, gli outlet non uccidono i piccoli, gli outlet sono un'opportunità. Questo è quello che noi abbiamo cercato di portare fuori e devo dire che abbiamo trovato persone che hanno saputo comprendere. Ne potrei citare tanti, le amministrazioni comunali. È stata una strada lunga, sicuramente lunga, ma avere a un certo punto messo insieme i sette comuni della Val di Chiana Retina, dando loro delle possibilità di fare iniziative, di entrare qua dentro, di noi uscire e andare da loro, comunicare. Dico a tutto il territorio nazionale che questo è un outlet che vive in questo territorio. Parlare di turismo insieme a loro, cercare di capire quali sono le sinergie. Quindi se io porto un pullman, se noi portiamo un pullman all'outre di Val di Chiana, non è un pullman che si ferma all'outre di Val di Chiana, perché veniamo a dirvi a Foiano, a Cortona, guardate, ve li portiamo lì, vengono da noi a fare shopping e poi vengono da voi. Expo è stato l'esempio più eclatante, secondo me è stato veramente arrivare ad aprire un'altra fase. Andiamo insieme alla conquista di Milano, cioè il territorio che va alla conquista di un qualcosa. Alla fine c'è stata anche l'apertura della Val di Chiana senese e noi ce la prendiamo. Abbiamo costruito delle cartine, abbiamo creato qua un'info che è assolutamente la vecchia APT. Quindi secondo me è proprio la voglia. I visitatori dell'outlet chiedono informazioni turistiche? Assolutamente sì, assolutamente sì e noi vogliamo che quello che potrebbe essere un negozio, ma che noi abbiamo volutamente fatto in modo che diventi un punto di confronto, un punto aperto al nostro cliente, diventa un punto dove ti mandiamo a Lucignano. Siamo dei commercianti, ma sappiamo che senza il territorio, non andando a vivere soltanto del nostro ego, noi sicuramente non possiamo fare altro che migliorare e credo che se miglioriamo noi, migliora anche il nostro vivere con il territorio. Ci avviciniamo alla piazza centrale perché ero in quel caso anche io presente, si fulcro un po' di tutte le strutture, in particolare di questa, perché ci sono stati eventi anche solidali. In quel caso abbiamo assistito ad un pranzo a cui erano stati invitati i sindaci, ma un po' tutte le istituzioni, una cena, mi correggo, una cena, il cui ricavato sarebbe andato poi a favore della Caritas, c'era anche ovviamente il direttore Don Giuliano Francioli. Ecco, anche queste iniziative quindi fanno parte di quella integrazione, no? Assolutamente sì, risposta scontata, è vero, però non è scontato pensarci, e lo dico senza falsa modestia, perché quando li abbiamo pensati, allora veniva molto semplice fare il classico concerto, l'abbiamo fatto per anni, ha avuto sempre successo, la piazza piena, i numeri ci davano ragione, i fatturati venivano, potevamo tranquillamente accontentarci, però quando, io credo che lavorare seriamente significa anche poi cercare di capire cosa puoi fare di più, e allora perché non cominciare a sommare qualcos'altro, perché non dare, come dicevo prima, questo spazio a tutto il resto, e allora perché no alla solidarietà, dopo tutto, peraltro in questo momento non posso non ricordare il direttore che c'era qua prima, Alberto Bertone, che è stato uno degli artefici di tutto questo, era lui il primo che diceva, che ha fatto venire qua, degli scrittori a promuovere libri, e questi scrittori insomma non erano proprio le persone più fortunate di questo mondo, per cui dare visibilità, dare l'opportunità di, quest'anno è stata la Caritas, quest'anno intendo 2015, stiamo cercando di capire cosa potrà essere il 2016, quindi queste iniziative ci sono, non perché noi dobbiamo per forza averne un ritorno, per carità c'è, ma l'ho anche detto la sera stessa della cena solidale, ma perché comunque un pizzico di fortuna è giusto che venga spartita, è un po' il discorso di prima, c'è un bel territorio, godiamocelo tutti insieme, c'è un posto dove in qualche modo si riesce ad essere, a dare visibilità, godiamocela un po' tutti insieme. E allora proseguiamo ancora questa nostra passeggiata, perché appunto ero curiosa di capire come questo tipo di strutture cambia un po' anche il costume proprio di una società, quindi in questo caso ovviamente di uno spaccato della società, ovvero dei consumatori. Cosa è cambiato nel modo di fare shopping e anche nel tempo, non solo nel modo ma nel tempo di fare shopping, perché qui si parla di orari comunque diversi rispetto a un centro commerciale nel centro storico di una città, insomma che cosa è cambiato? Questo è un luogo che parte con la possibilità di venirci in ogni momento, non c'è un momento preciso, io decido di andare, vado e so che lo trovo, e so che trovo aperto e decido con che tempi fare il mio shopping, decido con chi venirci, muovo la famiglia, mi muovo da solo, vengo con il mio compagno, la mia compagna, vengo a tutte le ore, decido che ci vengo di sera. Noi creiamo una card, creiamo una card che si chiama Village Card, ne abbiamo ormai circa 80.000 e quel cliente lo chiamo e quel cliente risponde, e risponde perché, non solo perché si è fidelizzato a noi, ma perché ogni volta che viene qua riscontra e ritrova quel modo di fare shopping, la shopping experience, noi ci riempiamo i termini, ci riempiamo la bocca di questi termini, non è niente altro che un momento in cui io vengo e sto bene. Se il cliente nel corso di questi dieci anni è tornato, è cambiato, l'abbiamo chiamato in maniera diversa, ma qua viene e ci premia, è perché ogni volta ha trovato in questa esperienza la sua esperienza, dove devi venire, stare bene, trovare un concerto se c'è, trovare un food, trovare il food dove puoi stare bene con la tua famiglia o da solo. Dobbiamo essere tutto questo, dobbiamo stare attenti a questo cliente che cambia, perché insieme a lui cambiamo noi. Domanda delle domande, l'ultimissima, poi davvero la lasciamo al suo lavoro che non le manca. Espansione? Allora, in serenità, proprio serenamente. In questo momento Valdichiana non ha un vero e proprio progetto di espansione, però Blackstone è un fondo, è come tutti i fondi all'occhio attento, per cui guarda. Al momento Blackstone e Multi, che gestisce, guarda questi 5 outlet, li vuole posizionare e una volta che li avrà posizionati, faccio una parentesi, Multi Outlet ha preso in gestione Molfetta e Mantova il 18 di novembre e Palmanova il primo di gennaio. Quindi in questo momento siamo concentrati a far sì che questi 5 outlet si posizionino. Si posizionino Franciacorte in un modo, Valdichiana in un altro e gli altri 3 che ho appena citato. Dopodiché credo che Blackstone farà e trarrà le sue conclusioni. E anche qui, come dicevo prima, per i consumatori, allo stesso modo si fa per questo taglio, o per la finanza, si fanno delle strategie. Se la strategia e se il cliente vorrà un Valdichiana più grande, chissà perché, chissà perché no.